Tra l'altro io Fasmofobia non mi ricordo nulla, cioè veramente l'ho giocato pochissime volte e so anche che ci sono dei nuovi update, quindi vedremo, vedremo come sarà sicuramente mi daranno una mano loro che ne sanno forse più di me, anzi molto probabilmente Non mi ricordo nulla, ho giocato pochissimo a sto gioco, quindi non ricordo niente dovrete insegnarmi Sì sì sì, no ma nessun problema, io quel cosino, cioè adesso non so quanto l'hanno cambiato dall'ultima volta che ci ho giocato È vero, ci sono dei cambiamenti, sì Però è in realtà abbastanza easy Ecco l'altro, buonasera Ci siamo tutti? Ci siamo Ciao Quando hai soldi del gioco, tipo vabbè, ok Non c'avete una lira, vedi? Io non lo so, non so più quanto so Io non lo so, manco io lo so quanto Aspetta tolga la musica che è altissima ancora Io dicevo che in realtà dovrei avere abbastanza soldi Ci fa da mommi a Michelle Mamma mia, le streamer ricche Aspetta Meno male, oh Allora però dobbiamo unirci, ok? Perché chi fa la lobby? Oddio, madonna, la setta, madonna, mi sono cagata sotto Hai visto? Mamma mia Come se faceva... Io non so più fare un cazzo, ok Ok, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho, regà, ce sto Crea lobby Fermi che ce l'ho Giocatori massimi 4 Ok, crea lobby Allora, metto pronto? Ci siamo? Vai Sì, sì Ah, raga, ma perché sono in ginocchio? Io non ho premuto niente Hai premuto C forse Hai premuto C per sbaglio, sì, sì, sì Ah, con la C si si basta, non con... Guarda quella cosa brutta di voi, sul cismo che faceva Pensate al fondo Raga, sai che ho perso un sondo Ah, hanno ragione, regà, ma si accendono le luci dalla casa? Eh, ma scusa, eh Ah, eh, vabbè Accendono le luci dalla casa? Eh, c'hanno ragione La situazione... Oddio, mio, Michelle Di sotto tutto ok Che è stato? Oddio, raga, che è? Sono accendere le luci, la sole? Eh, no, non si accendono più, raga Oddio Dobbiamo andare di sotto Sì Ah, perché c'è il generatore sotto? Sì C'è il quadro Porca miseria, in cantina? Brutta storia la cantina Io T'accompagna, c'è so io Tutti in cantina fa meno paura Esatto Eccolo Ok Troppo forte Per ora va tutto bene? Per ora A me fate più paura come me lo avete voi, comunque Vi state a contorce, sembrate l'esorcista Eh, sì, l'avevo vista anch'io Eh, c'è tipo una persona Eh, sì Oddio, ma non è tipo il riflesso di Michelle, può essere? Eh, il riflesso di Michelle è sempre Eh, sì Allora proverò a parlare alla spirit box Proviamo Se ci sei, dici quanti anni hai Oh, ok Ma l'osso è sparito, regala, avete raccolto? Eh, no Io non l'ho tolto E non c'è più? Eh, eccoci qua Ecco qua Poco bene, poco bene Porca merda Come mi sembra? Eh, eh Tutto bene? Per ora sì Tutto bene Oh, nel tavolino del salotto ci stanno i tarocchi, dicono Ma, riuscite a prenderli voi? Ma non so, tarocchi Sì Ah, tarocchi, questi? Sì Vogliamo provare a Dividerci? Sì, sì Allora getto la macchina Vai Oddio, regala Madonna, ma sembra Berserk Guardate che figli Come se usano? Allora mi dicono Tasto destro per girare le carte Potresti attivare lo spirito Potresti anche morire direttamente Perfetto Ottimo, vai Stai via Ma, stai bello Michelle, dove sei? Dove sta Michelle? Oddio, un parlo che è possibile No Michelle? No, dai, serio No, non risponde No Non è possibile, raga Ma come? Aspetta, scusa, non è possibile Cioè, nel silenzio? Cioè, è il tizio che agisce nel silenzio? Cioè No Ma perché Probabilmente perché era andata da sola Può essere? Che agisce solo da sola Poverino Ma qualcuno c'è, raga Ma hanno ammazzato me il pelle Ma no Ma che sa Che non è possibile Che con lei ci ha fidanziato Eccolo Eh, no, eccola Eccola, è qua, è qua Ah, eccola, Michelle Mi hai fatto di accorso Cosa? Ma tu stavi? Sei una schiarfane Che fa? C'è un'altra Eccola Eccola Ok Ti volevo far vedere Volevo che partecipassimo tutti Perché potrai morire Io lì che potrebbe morire Ma poi ho presito a Rocchi Vediamo Sei pronti? Se muoio Vi lascio tutti i miei averi, ok? Vai Oh, hanno chiuso la porta Hanno chiuso la porta Eccoci qua Eccoci qua Che cazzo è? Che cazzo è? per buttare da rocchi forse è meglio così ha detto che è giovane sarà un bambino di che belle le carte liberano 5 qui la prima stronza a morire ovviamente sempre io devo essere io la goli a io gli a darei comunque no non mi dire che è morto no ciao c'è un bel asolo oh merda mori chiudi chiedimi scela porca troia non lo sai perché mi ha preso ho parlato oh è rimasta sola oh Virgi deve andare via spero che lo sa cioè spero che si ricordi ma immagino di sì dai ragazzi che mettiamo? che sta a mette Virgi? mettiamo Bright e mettiamo Bright vediamo se abbiamo fatto giusto giusto? giusto let's go sì sì giusto questa è tipo la mappa raga ma è grevissima cioè enorme maronna che ansia raga mamma mia questo è il postino madonna quanto cazzo è grande questo posto è strano eh però non capisco se è accesa o spenta eh aspetta così? così forse è acceso perché c'è la lucina però forse non sono le luci? non sono le luci? non so oh le luci ci sono ho trovato ci sono? ho sentito una porta sì? sì oh 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 cazzo 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 eh sì mi sa che sì e davanti a me tra l'altro oh 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 cazzo 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 mannaggia san cazzo ma che è possibile sempre io devo morire ma io ho fatto sto coso io cioè ci siamo tutti ragazzi cosa cosa facciamo ok allora secondo me dobbiamo tornare porca vacca pochia vacca e porca vacca siamo tutte vive è perfetto io lascerei il libro per vedere se scrive eccoci di nuovo no è morta qualcuno no allora facciamo una cosa allora abbiamo un obiettivo andiamo ritorniamo al pullman dal secondo me la consulta l'uscita che non so l'uscita è il suo tipo di volontà aspetta il libro e non c'è di odio tanto Regà Mi so che c'è da sotto Che cos'è sta roba regà Aiuto mamma Ragazzi mi dispiace E' arrivata la mia fine Me la sento al culo me la sento al culo Esci 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 C'ha aperto il culo comunque Madonna Dalla merda starana Vabbè intermedio direi che non fa No Io suggerirei di fare l'ultima In dilettante Vai Ragazzi c'è un osso qui Chi c'ha le foto? Io vado io Vai fatto Qua 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 aspetta Dove sono io? Vediamo No No Non da sola Canja grazie Dei bittini Buonasera Anche su Dio risponde solo a pressione sole Quindi forse fai bene Dei Robinson Dacci un segno Ok raga movimento Movimento in questa stanza No non più Raga qui Due tacche Niente più Dei Robinson se ci sei Dacci un colpo Oddio ma anche il bagno Qua non si accende niente Il bagno è pulitissimo tra l'altro Non bagno pulitissimo No porca Porca miseria Arriva Sì 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 Lascio il libro spiritico Vai 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 Prova a lanciarlo proprio per terra Io una volta che l'ho lanciato non si è aperto Ecco fatto Ecco Perfetto bravo A posto Benissimo Andiamo a accendere il portale rega Sì vai Ci sto Ci sto Ci sto Io rega ho paura E qui giù Dai Andiamo insieme Eccolo qua No perché io moro sempre Non si consuma l'accendino vero? Non penso Prova Dovrebbe Prova bene l'accendere Allora io adesso sto cliccando sul coso Ma non si accende la candela Devo fare qualcosa di particolare Non mi ricordo come l'avevo accesa io Che è successo? No ma che cosa stava arrivando Stava arrivando per lo meno Che abbracci sul portale Sta arrivando E che è morto Ci siete eh? Ragazzi mi sentite Mi sa che ha preso il segno Oh raga Da non morire mai Ora Ci siete eh? Ragazzi mi sentite? Mi sa che ha preso Virginia Ma proprio vicinissima a me tra l'altro eh Poverina No porca miseria Porca No Se mi rimaste solo noi due Mi sa Ok siamo tutti morti Direttamente eh Beh è stata produttiva Producente Sai cosa Dovamo la sanità a zero Madonna Vado Porca merda Io non posso più Entratto Quanto c'hai Incippaccio Allora dovresti provare ad andare su A vedere se ha scritto nel libro Spiritico Yes Sì sì vado vado Dov'è che stava il libro? Qua? Sono morta Sì te lo dico È la Rob Finn ragazzi La Rob Finn Eh oh Ci ho provato raga Oh l'abbiamo fatto? Vediamo 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 No Vittoria dai ma se Ma donna Cazzo merda Sì infatti 10 dollari È una merda Eccoci qua Io ho fatto tante belle foto oggi Hai fatto tante belle foto Sì è l'unica cosa ho fatto Comunque ci sono anche un sacco di giochi Multiplayer Carucci C'è The Power Che è molto carino Brava sì Ghost Watchers pure Cioè se non sbaglio Mi stanno accontentando un sacco di tempo Quindi ce ne stanno anche da fare Prossimamente Va buono ragazze Allora io vi ringrazio Grazie per le partite Grazie a voi Grazie a voi E ci sentiamo prossimamente Ma sì Qualche orrorino Ciao ragazzi Assolutamente Assolutamente Buona serata Ciao Buona serata Ciao ragazzi Buonanotte Ciao 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 Allora ragazzi Che ne pensate Come è stata questa esperienza su FAD Ma io non ci ho capito un cazzo Si può Si può intuire che io non abbia capito proprio un cazzo Di quello che facevo Porca miseria Deci i folli di Nel Benvenuti Porca miseria Ragazzi io non ho capito un cazzo Grazie a tutti Ciao 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 Grazie per la visione!